salve ragazzi e bentornati sul mio canale oggi qui illuminato come la barbara d'urso dei tempi che furono vi faccio vedere come creare un calendario economico con excel io mi affido sempre i calendari cartacei per appuntare alcune cose fondamentali che devo avere sempre lì davanti e ogni volta quando decido di acquistare un calendario online o direttamente di persona mi accorgo che i prezzi sono sempre più alti se ci richiamo semplicemente su amazon possiamo vedere che i calendari arrivano a 13 euro cioè quei calendari che una volta te li dava la farmacia o il macellaio 13 9 io uso spesso questi qui piegabili 6 euro 9 10 11 a questo prezzo uno ci compra un blocco da 500 fogli ora vi faccio vedere come creare un calendario con excel facile facile veloce veloce e poi decidete voi cosa farci oggi parliamo di economicità quindi andiamo su office 365 office 365 cioè office gratuito per chi non avesse la suite office a pagamento apriamo il browser chrome o qualsiasi altro browser e digitiamo cerchiamo office 365 che è gratuito per tutti basta accedere con il nostro account microsoft ecco qui primo risultato login vediamo un po io ho già effettuato il l'accesso con il mio account se non ha effettuato l'accesso con il tuo account microsoft fallo perché hai la suite office gratuita con tutto word excel powerpoint e tutto quel che ne consegue anche i modelli per il calendario che adesso ti faccio vedere modelli non sto parlando di modelli in carne ed ossa ma modelli per la struttura del calendario io adesso potrei farvi anche vedere come creare un calendario dinamico con excel qui cartella vuota progetto vuoto da zero creiamo il calendario dinamico formule ma c'è già nei modelli creati ad hoc per noi che non abbiamo tempo e vogliamo fare le cose velocemente quindi usiamo i modelli dalla home di microsoft 365 apriamo qui excel sulla sinistra potevamo anche cercare i modelli direttamente lì nella barra di ricerca mandiamo passo passo e poi clicchiamo su cartella di lavoro vuota una volta aperta la cartella di lavoro vuota ovvero la schermata standard di excel clicchiamo in alto a sinistra sul file e poi su nuovo quindi scegliamo sfoglia modelli apriamo la nuova paginetta vi ricordo che dovete avere internet per fare questa procedura perché stiamo lavorando sul web dobbiamo trovare adesso il modello del calendario andiamo a digitare qui in alto calendario calendario potete vedere che abbiamo dei modelli già qui tre modelli prestabiliti ma a noi non ci bastano chiudiamo la pagina di ricerca cliccando su un punto qui e scendiamo giù in basso fino a cliccare su esplora tutti i modelli adesso questa è la pagina dove abbiamo tutti i modelli pre compilati precreati a noi serve quello del calendario digitiamo calendario diamo invio scritto calendario bene sì ed ecco tantissimi tantissimi modelli di calendario ma ce n'è per tutti i vostri gusti voi qui in questa pagina potete trovare qualsiasi cosa digitando qui in alto in questo caso a me serve il calendario e vediamo un formato calendario che può interessarci io utilizzo spesso questo tipo di calendario con i quadrati belli grandi per scriverci dentro per appuntare dentro qualcosa clicco su questo modello e poi non lo vado a scaricare quindi no no download vado in custom eyes in excel cioè me lo apre in excel sempre qui online su excel 365 vado e me lo me lo caricherà sta creare caricando il modello e walla eccolo qui non è calendario questo ma adesso ci arriviamo questo è il modello di base dal quale possiamo partire per customizzare il calendario sinceramente noi possiamo cambiare anche i colori e lo cambierà tutto il calendario ma se io vado in page layout qui non vedo tema non so quindi lo vado a customizzare lo vado a cambiare a personalizzare personalmente mese per mese se voi siete più bravi e sapete come si fa a cambiare di colori a tutto il calendario da qui scrivetelo nei commenti dov'è il calendario il calendario eccolo qui vediamo le pagine cliccando qui su gennaio febbraio marzo aprile eccetera 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 fino ad arrivare a dicembre ma torniamo su about la prima pagina e già di su mi imposta il calendario a 2025 2025 ma se io volessi fare per 2000 per il 2026 mi basterebbe cliccare qui dovrebbe ecco aprire le formule e vado a cambiare al più 1 vado ad aggiungere il più 2 e torna anzi si trasforma in 2026 ma noi vogliamo fare il 2025 e mettiamo più uno come era in in partenza adesso io voglio cambiare manualmente anzi vado a cambiare manualmente tutte tutti i colori come faccio a cambiare i colori del mio calendario che vediamo prima di tutto vi dico io lo farò in bianco e nero per risparmiare quindi vado sulla scritta anzi ho sbagliato clicco un'altra parte seleziono il blocco clicco una volta sola sul blocco posso decidere di cambiare la scritta ma io lascio questo come vedete posso impostare qualsiasi altra scritta lascio quella originale ma voglio cambiare il colore vado qui secondo home selezionato e il colore scelgo nero perché farò in bianco e nero poi seleziono anche tenendo cliccando sulla cella e spostandola sulle altre celle questa base che è blu questo è un blu se non sbaglio e vado a mettere una base grigina e il testo già che è selezionato nero come vedete sto cercando una combinazione di colori che mi permetta di risparmiare inchiostro potete anche notare che i giorni di festa sono in nel blu sono rimasti blu io adesso se provo a cambiarli non me li cambia perché è tutto collegato al fatto che è collegato alle formule della prima pagina ma se non vi interessa particolarmente potete riconoscere i giorni festivi perché sono in grassetto mentre quelli normali qui non sono in grassetto sto facendo una cosa veloce veloce e poi potete personalizzarlo quanto volete io vado a fare la medesima operazione anche per gli altri mesi che vedete hanno ancora il colore originale ci metto un attimo ecco io adesso colorato tutti gli altri mesi del calendario con lo stesso colore bianco e nero qui il grigino vado a salvare forse no salva automaticamente qui questo qui online e adesso devo stamparlo io potrei stamparlo direttamente da qui vediamo un po se faccio file stampa se mi dà l'anteprima di stampa sta caricando potrei si stampare ogni foglio abbiamo tutti i fogli orizzontale lettera foglio attivo tutta tutta la cartella di lavoro seleziono qui e mi prenderà tutto tutti i mesi vediamo un po se li carica eh sì eccoli qui tutti i mesi adesso io lo potrei li potrei stampare potrei stampare massimo 12 fogli non vado a stampare anche dietro perché con il foglio classico f4 dietro poi ci sarebbe la situazione strana del lo scrivere su una casella che si ripercuote anche dietro vado a sprecare al massimo 6 12 fogli ma posso ridurlo anche a 6 in un'altra maniera io invece di stampare il foglio cartaceo vado a cliccare qui in alto a destra e faccio esporta come pdf ve lo faccio vedere nuovamente file in alto a sinistra stampa seleziono qui esporta come pdf e faccio scarica salvo il mio calendario scrivo calendario 2025 nella mia cartella di prova salva e adesso il mio calendario 2025 salvato in formato pdf lo posso stampare anche da qui se vado qui sopra stampa vediamo di nuovo l'anteprima e posso stamparlo anche da qui ma adesso noi andiamo a fare un'altra personalizzazione ci proviamo io chiudo questo qui e vado ad aprire un software per modificare i pdf che io trovo veramente valido che si chiama se non sbaglio eccolo qui pdf exchange editor lo trovate cercandolo su google vi lascio questo link in descrizione selezionate la versione download pdf exchange editor portatile questa qui zip file vediamo anche questa qui no vi basta la seconda da e potete modificare gratuitamente perché questa è una versione gratuita ai vostri pdf ma è veramente valido ve lo faccio vedere subito vado a importare quel file pdf con il calendario file apri cartella di prova dove era si era questa qui già ce l'ho selezionata e apre il mio calendario che abbiamo creato su excel per microsoft 365 ok eccolo qui possiamo andare a diminuire la percentuale mettiamola al 100 per cento perfettamente la prima cosa che dobbiamo fare intanto qui vediamo il calendario è sparita la parte sotto del calendario ma noi basta questo il proprio il minimo indispensabile la prima cosa che dobbiamo fare è eliminare questa pagina che adesso è inutile non su excel su excel non la puoi eliminare perché collegata alle pagine successive serve per gestire l'anno tutta la dinamicità dell'anno e giorni eccetera eccetera andiamo eliminare questa pagina cliccando su se non ricordo male organizza si elimina pagina elimina pagina no no elimina questa pagina vediamo un po clicco su elimina pagine si la pagina numero uno perché questa è la numero uno ok tac e si è tolta adesso abbiamo siamo rimasti solamente con i mesi salviamo noi adesso potremmo stampare questi questo calendario calendario che occuperebbe un foglio a 4 per ogni mese per ogni mese certo che su un foglio a 4 esce un bel quadretto nel quale puoi inserire tanti appunti a penna matita ma vogliamo rimpicciolirlo invece di 12 pagine ne vogliamo fare 6 possiamo fare una mezza mandragata una cosa un po casareccia perché la sto facendo veloce veloce scusatemi per questo possiamo andare in merge pages cioè unisci pagine sempre in organizza clicchiamo su merge pages e possiamo vedere che già mettiamo due mesi in un foglio questo è molto interessante due mesi in un foglio vediamo un po le pagine sono passate da 12 a 6 facciamo ok vediamo cosa esce fuori ecco qui diciamo che il risultato non è esteticamente pregevole perché vediamo la tabella molto deformata ma abbiamo due mesi in un foglio se proprio vogliamo vogliamo risparmiare questi fogli ma si facciamo una cosa veloce ragazzi e stampiamo questo calendario un po alla carlona così in fretta in furia ok facciamo come prima salviamo una volta salvato possiamo chiudere tutto quanto e vediamo un po che mandragata esce fuori voi potevate stampare anche un foglio un mese per ogni foglio ma proviamo anche così vediamo come esce sul foglio di carta vera e proprio io chiudo tutto quanto chiudo anche anzi riduca icona qui e vado a trovare il mio file pdf con nella cartella di prova eccola qui ecco la mia cartella di prova trovo il calendario calendario 2025 eccolo ecco il nostro calendario vado a stampare subitissimo queste sei pagine e poi vi faccio vedere clicco qui sulla liconcina della stampante vediamo già l'anteprima pagine tutte quante non print to pdf ma selezioniamo la stampante ok eccola qui in bianco e nero vediamo se c'è la cartella bianco e nero qui non la trovo ma di sumi lo dovrebbe stampare stampare bianco e nero quelli sono i colori stampo tutte le pagine pagine cinque no tutte quante ne sono sei infatti lascio tutte ragazzi io vado con la stampa vediamo cosa esce fuori stampa e sentiamo già i rumori e faccio poi una ripresa con il cellulare vi mostro quel che è uscito fuori sentite la stampante che va a fra pochissimo allora ragazzi ecco quel che è uscito fuori si dai tutto sommato è uscito qualcosa di decente forse se lo mette a fuoco l'unica cosa da fare era da mettere i contorni della tabella in nero perché come vediamo in grigio si perdono un po sul foglio bianco ma dai tutto sommato è uscito un qualcosa di abbastanza decente per quel che serve a me per come abbiamo organizzato il calendario a in fretta in furia un calendario economico può bastare poi ritagliamo e possiamo usare utilizzare la base di un vecchio calendario quelli che si piegano il cartoncino di un vecchio calendario per rilegare o incollare questi fogli andiamo nel dettaglio dei giorni feriali vediamo un po possiamo notare se metti a fuoco che i giorni feriali sono in grassetto il 10 e giorni normali il 9 sono non in grassetto non si distingue tantissimo ma sì per la tipologia di calendario è proprio basic basic può andare più che bene bene ragazzi vi ho fatto vedere come creare un calendario economico proprio in due secondi io spero che il video vi sia stato di aiuto in qualche modo se si lasciate un commentino mettete un mi piace iscrivetevi e noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao